Eccoci qua, cominciamo. Così nella testa un progetto si mescola all'altro, col sonnifero in tasca si dirige alla riva, sale sul motoscafo e si avvia piano piano così piano che si fa sorpassare da una barca carica di turisti olandesi in gita di istruzioni. Essi vanno sull'isola a visitare la famosa Basilica del Santo, li porta il barcaiolo a Duilio che tutti chiamano Caronte per dimostrare che hanno letto i classici. I turisti gli chiedono qualcosa in olandese ridendo, Ottavo non si offende tanto più che ben presso quella barca dopo aver toccato appena il piccolo imbarcadero dell'isola, si stacca come scottata e torna indietro. Caronte rema più in fretta che mai e passando grida anche lui qualcosa. Cosa ha detto? Sull'isola non si può sbarcare, ci sono i banditi, ma quale banditi? Vada pure avanti se ci tiene ad incontrarli, ma non dica che non l'ho avvertito. Prima di toccare terra Ottavio incontra anche una piccola flotta di imbarcazioni che si allontanano dall'isola. Sulla prima ci sono sei suore, sei povere suorine, sulla seconda, sulla terza e sulla quarta ci sono alcuni commendatori con le loro famiglie. Sulla quinta un vecchio signore solidario come un cane, è gente che risiede sull'isola e sorrine tutto l'anno, gli altri solo nella bella saggione. Che succede? Torni indietro, i banditi non le permetteranno di sbarcare, noi come vede ci hanno cacciati. Tra i fuggiaschi non c'è lo zio Lamberto, non c'è Anselmo, non ci sono quei sei delle soffitte. Io vado a dare un'occhiata, dice Ottavio e dirige la prua verso la darsena. Lo accoglie un cittadino mascherato che gli mosse un mitra e gli fa, benvenuto signore, l'aspettavamo, posi la barca, grazie, da oggi sono sospese le regate. Cos'è? domanda Ottavio, è scoppiata la guerra? L'isola è occupata signore, ma lei può sbarcare perché fa parte della famiglia, altre istruzioni le saranno comunicate in seguito. Ottavio obbedisce, si può discutere con un mitra. L'isola di San Giulio sembra fatta tutta a mano, come un gioco di costruzione. Metro per metro, secolo dopo secolo, dandosi il cambio, uomini e altri uomini le hanno dato una forma con il loro lavoro. Se si vede del verde, la natura non c'entra, sono i giardini delle ville. Non si vedono rocce, ma pietre mattoni, vetrate, colonne, tetti. L'insieme è compatto con i pezzi di un rompicapo. Di sera le differenze dei colori scompaiono, i profili si fondono. L'isola sembra un monumento in un sol blocco di pietra, nere a guardia dell'acqua cuba. Da qualche finestra invisibile parte un raggio di luce, come un cordone gettato per tenere legata l'isola alla terraferma. Sul lungo lago di Orta la gente conta le luci. Sono quelle della villa del balone Lamberto. Per forza c'è rimasto solo lui. La notizia che l'isola è stata occupata dai banditi ha richiamato al migliaia di persone sulla riva. Ci sono gli abitanti di Orta, usciti dalle antiche stradine, dai nobili palazzotti e dalle ville fiorite, uscesi dai fianchi delle montagne. Ci sono i turisti che lasciano raffreddare la scena sui tavoli degli alberghi. Non ci sono i profughi che si sono ficcati a letto per rimettersi dallo spavento. Al centro dell'attenzione sono i turisti olandesi e il barcaiolo Duilio, che sono stati i primi a dare l'allarme. Ma i turisti olandesi parlano olandese e non si capisce una parola di quello che dicono. Tocca a Carunto e risponderà le domande. Com'erano? Com'erano? Chi? Ma i banditi, no? Avevano la maschera sulla faccia. Nera. Nera, blu, chi lo sa? Io tenevo d'occhio le armi. Fucili o mitra, fucili, mitra e anche rivoltelle. E ne ho viste due che piazzavano un cannoncino. Tu come lo sai che era un cannoncino? Saprò ben distinguere un cannoncino da un paiolo per fare la polenta. Lo sai distinguere anche da un mezzo litro rosso? A questo sfacciato Duilio volta la schiena per rispondere a un signore più gentile che domanda. Erano tanti, tanti. Quanti più o meno? Più di venti e meno di trenta. Parlavo in italiano? Certo, altrimenti come avrei fatto a capire quando mi hanno detto che nessuno poteva scendere e che dovevo fare marcia indietro? Parlavano italiano. Bene, non sono mica il maestro per dare voti. Buona questa, caronte, i voti ai banditi. Sette più, cinque meno. Ma adesso i voti non li danno più neanche i maestri. Insomma, forse avevamo un accento che so, milanese, siciliano, inglese, tedesco. Banditesco, interrompe uno spiritoso. Duilio ha già raccontato venti volte come è andata. Tutti quelli che l'hanno sentita raccontata da lui, a loro volta l'hanno ripetuta altre venti volte a chi non l'aveva sentita. Ma c'è sempre qualcuno che arriva adesso e vuole sentire la storia da capo, così poi riferirla a quelli che arriveranno più tardi. Gli olandesi continuano a parlare olandese e intorno a loro sono in molti a fare di sì con la testa, anche se non capiscono un h. Un tale, a un certo punto, si rivolge a un olandese grosso che gli altri chiamano professor e gli fa. Do you speak English? Il professore si dichiara tutto e attacca a parlare in inglese, ma quello là si spaventa e scappa. Altri olandesi provano a parlare in tedesco o in francese, allora si trovano i cittadini che non hanno lavorato in Germania o in Francia e capiscono queste lingue. Così la comunicazione è stabilita, i turisti sono ai sette cieli. C'era uno che dava ordini a bassa voce, racconta a Duilio, e intorno a lui altri ripetevano per chi era distratto o troppo lontano. Uno dava ordini a bassa voce. Il particolare sembra molto importante, forse quello era il capo, ma forse no. C'è materia per discutere. Una donna cambia improvvisamente la rotta, osservando. Chissà poi perché avranno occupato l'isola di San Giulio, domando io. Sulle prime si sentono solo i borbottini in formi dire ma, boh, vattela a pesca. Poi si affacciano le congetture. Per me deve essere una pubblicità. E di cosa? Che ne so, del dentifricio, del panettone. Cosa c'entra il panettone? Che siamo d'estate. Perché alla televisione non fanno la pubblicità al gelato anche d'inverno? La reclama è l'anima del commercio. Non si venderanno mica anche l'isola? Deve essere una pensata del sindaco. Io non c'entro, grida il sindaco che ha sentito. Certe pagliacciate non mi riguardano. Allora secondo lei è una pagliacciata. Dove ha visto i pagliacci coi cannoni? Non esageriamo, i cannoni. L'ha detto Caronte. Caronte ha detto cannoncini. Allora sarà la reclam dei cannoncini alla crema. Per me, affermo una signora alta e elegante, che tutti ascoltano volentieri perché ha dei bellissimi occhi, potrebbe essere un trucco del barone Lamberto per sabotare il turismo sull'isola. Già, forse gli dà fastidio rumore degli zoccoli. Forse lo disturba l'odore del formaggio olandese. Risate. Perdoni signora, il barone Lamberto ha 94 anni e non si sa quante malattie. Col suo dito non lo disturberebbero nemmeno le cannonate. E poi, a essere sincero, non ha mai fatto storie. Gran brava persona. Anche il suo maggiordomo, quello dell'ombrello. Due brave persone. Magari hanno un po' troppo il gusto del mistero. Tutta quella servitù invisibile che si sono portati. Già, almeno sei persone di servizio e non se ne è mai vista libera un'uscita a nessuno. Semmensoffitta, dicono. Guardate, anche adesso le soffitte sono illuminati. Tutti si voltano a guardare dalla stessa parte. Tornando ai banditi, dice un milanese che soggiornano il miglior alberco, tempo fa ho sentito parlare di un gruppo di pittori astratti di Omegna, Verbagna e Domodossola, che hanno lanciato un manifesto contro le cartoline illustrate chiedendone la distruzione e minacciando di essere di passare all'azione. Cioè, dare l'assalto alle tabaccherie, fare dei falò di cartoline illustrate sulle pubbliche piazze. Il signore vuol dire che potrebbero aver occupato l'isola per ricattare l'intera nazione. O vengono distrutte tutte le cartoline illustrate della penisola, isole comprese, oppure, già, che cosa potrebbero minacciare? Di far saltare San Giulio? Boom! Questa mi sembra diffamazione bella e buona. Ho conosciuto molti pittori astratti, erano tutti ottimi padri di famiglia. Uno era perfino nonno. Io ne ho conosciuto uno che era una madre di famiglia ed era anche zia, perché avevo una sorella sposata con due figli. Io non insisto, Borbotte il milanese, dico solo quel che ho sentito dire. Dove? In treno. Bella roba. In treno la gente ci va apposta per sbarlarle grosse. Tanto nessuno può controllare. Una volta ho viaggiato con un tale che pretendeva di essere stato rapito dai marziani. A proposito, non dimentichiamo gli UFO, cioè i dischi volanti, gli spaziali, sbarcano un po' dappertutto. Non potrebbero essere sbarcati sull'isola di San Giulio? In questo caso Caronta avrebbe visto degli ometti verdi con le corna. Qualcuno, arrivato da poco, capisce solo a metà e dice al suo vicino. Pare che nell'isola ci siano degli ometti verdi con la corona. Con le corna. Ma allora è pericoloso stare qui. La penso come lei. Andiamo a bere una birra. Qualcosa però li trattiene. Un brivido d'eccitazione ha percorso la folla. Dall'isola si è staccato un puntino luminoso che avanza verso la riva di Orta. Arriva qualcuno? Un marziano? I presunti uniti di cannocchiale scrutano nell'oscurità per essere i primi a dare informazioni su quel qualcuno che stava attraversando il confine invisibile tra il mistero e la terraferma. È uno che affonda troppo i remi. Deve fare una fatica del diavolo. Ha un ombrello appeso al braccio. Allora il signor Anselmo. Cosa vi dicevo? Tutto un trucco del barone. Ora manda il maggiordomo a dettare le sue condizioni. Un giovinastro di cattivo gusto si protende verso il vogatore e gli batte il tempo con la voce. Ho ho hop! Ho ho hop! Ma cosa fa? Osserva un esperto di regate olimpioniche. Non vede che è un singolo? Il timoniere sul singolo non c'è. Il signor Anselmo è proprio lui. Oltre che dall'ombrello lo si riconosce dai capelli bianchi. Si accosta al bancadero ansando. Dov'è? Dov'è il sindaco? Cosa vi dicevo? È una pensata del sindaco. Pronti? Sono qua. Chi mi vuole? Il signor Anselmo si schiarisce la voce e si aggiusta il manico dell'ombrello sul braccio. Il momento è solenne. Tutti si invitano reciprocamente al silenzio. Producono un gran frastuono. Signor sindaco, esordisce Anselmo, sono incaricato di trasmettere il seguente messaggio. Primo, l'isola di San Giulio è militarmente occupata dalla banda del 24L. Come ha detto M? No, ha detto N. L come Lamberto, precisa Anselmo. Posso proseguire? La prego, dice il signor Orta. E voi altri, alla folla, non interrompete più per bacco. Secondo sindaco di Orta è incaricato di convocare entro 48 ore i direttori generali delle 24 banche di proprietà del barone Lamberto. Ecco l'elenco e i numeri di telefono, signor sindaco. E chi pagherà tutte queste chiamate intercontinentale e internazionale? Guarda, guarda, Zurich, Hong Kong, Singapore, stiamo freschi. Terzo, prosegue Anselmo, passandosi il fazzoletto sulla fronte. Il barcaiolo Duilio è incaricato di portare sull'isola ogni mattina alle 8 i rifornimenti. Dov'è Duilio? Presente. Eccola la nota della spesa. In questa busta ci sono i soldi, il resto mancia. E se io non ci sto? Quarto, riprende Anselmo senza rispondergli. Se questi ordini non verranno eseguiti, la città di Orta sarà bombardata dall'isola. Nessuno rompe più il silenzio. La cosa si è fatta seria. Quinto, è vietato avvicinarsi all'isola in barca. A nuoto, per via subacqua e per via aerea, firmato i 24 L. Anselmo ha finito. Accenna un inchino, borbotto un buonasera, in fretta, volta la barca e punta sull'isola. Si sente il tonfo dei remi che entrano nell'acqua, un po' troppo in profondità, come qualcuno ha già osservato. Ora però nessuno ha più voglia di fare osservazione. Si sentono solo sussurri, bisbigli, colpi di tosse. Il sindaco sta correndo in municipio per attaccarsi al telefono. Chiama il prefetto, il ministro dell'interno, la sua propria signora che si trova al mare a Viareggio. Poi comincia sospirando a chiamare i numeri che gli sono stati consegnati da Anselmo. I curiosi, che continuano a guardare l'isola, hanno ora l'impressione che sia diventata più nera e compatta. Le luci che bucavano la sua massa si sono spente. È come se l'isola avesse troncato i contatti con la terraferma per prepararsi a un lungo assedio. Così deve averla vista, prima dell'anno 1000, l'imperatore Ottone, quando vi si è rinchiuso il re d'Italia, Berengario, e ci vollero delle settimane per costingiola alla resa. Sconfitto Berengario, si rifugiò a San Giulio sua moglie, la regina Vilma, con tutti i tesori del regno. Ottone dovette ricominciare da capo l'assedio che questa volta durò un bel pezzo. Chi dice due mesi, chi tre. Alla fine fecero un patto. La regina consegnò all'imperatore i suoi tesori e quello la lasciò libera di andare dove voleva. Uno a uno. Vecchie storie di gente morta da mille anni, ma le pietre dell'isola se le ricordano e prendono adesso un'aria minacciosa nel buio. Andiamo a dormire, dice la gente. Andiamo! Ciao ragazzi, alla prossima e buona Pasqua e buone vacanze!